dopo 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 simon ha preparato un bicchiere ciascuno dopo simon simon ha preparato un bicchiere ciascuno di vino allora oggi va agli spazi per essere degli altri quindi per te gli uno caro e gli altri i forturi in un terino e la ferra di un parco di giugnano non è un'altra cosa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.